musica 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 buona a tutti ragazzi sono stabberk95 ci siamo affermati qui che abbiamo completato la prima quest e non so perchè c'è questo bastone comunque aspetta qui ci stava un'altra roba da fare da portare il narciso a a cammy oh cazzo comunque non mi ricordo che si doveva fare come avevo interrotto l'ultima volta comunque ah non è vero dovevo fare l'allenamento giusto scusami ma se avete successo in battaglia imparare a cogliere il potere delle tue scorreggie usare questa magia sono avversato in un momento giusto al punto di ciò della battaglia dimostrò come si fa ma prima ecco ormai ormai scorreggerei sulle palle di qualcuno ok scorreggere se non è necessario ma scorreggere sulle palle non si fa ahahah ok ok vabbè di prima vabbè di prima oddio mi sa che si fa da una balla sgombata di marda nella mutante controlla un po' eh 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 ah aspetta da quanto ho capito ah 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 ti ora ah 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 Ora mettiamo la propria vita contro il mio cervello Oh mio Dio Oddio Bello Così Ma come è fallito Munchi ho fatto bene prima la prima volta Ah ci dobbiamo rimanere un pochino Ora tipo c'ho le mutande di marroni tipo Infatti adesso mi fissi i cani a prendere tutte Oh no Ah 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 Ma vedete non fa la massa o la fai di qualcuno Non sto scherzando Ok andremo a farlo subito e non faccio a qualcuno Adesso mi prende il giro del drago E poi Ecco non mi ha fatto la giro di marri che rimottarci L'urlo del drago Ah 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 Delitto e castigo Ok ti auguro Vai prendere il crime Allora Reclita Craig Vai a scuola No no a scuola non ci vuoi Sono appena tornato ora Vabbè vieni con me Andiamo Da Da quel coso Aspetta Che mi ricordo che tempo fa ci stava un falò Che andava spento A parte a casa di Kenny ma Per di qua Ho un cespuglio Ecco ecco questo qui Vediamo eh Eh come caspita si fa? Lo devo fare qua? Eh non me lo fa fare Un arcade tipo Eh vediamo Abilità no Dove caspita? Inventario Ehm No 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 Ah che posso usare Che cosa faccio ad usare questa abilità? Ehm Non si può vedere Non si può vedere Eh vaffanculo Vediamo se Niente Ok allora andiamo alla scuola Che praticamente Questo Si Vai Devo andare lì Eh basta andare da dritto Praticamente Si Vai Esci E andiamo a dritto Carica Eh come caspita si fa la No che padre ci sono lì Ficchi rompendo Senta posto di male Senta posto di merda Dai muoviti Oh qui c'è una borsettina Levati cazzo di paletto Oh Marema Oh ma porca Hai rotto Marema campagnola Non dovresti essere a scuola Non dovresti essere a scuola Su chiamila Io non ci vado a scuola Vediamo se ce la fa il nostro eroe Oh Pozione della saluta Snaps Siancorgo Eh ciao No Lish Su qui si può rompere Che non ha servito un caspito Però va bene uguale Tintura verde azzurra Contante 35 centesimi Scuola Eh ciao No No aspetta Tu ho detto c'era la bandierina Le mortacci tua Ah il signor Mike Craig Craig Si 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 no aspetta devo sbloccare il cosino qua poi no aspetta voglio azzare un attimo l'audio siamo diciamo al come si chiama al pratino della scuola ci stanno diamo un ragazzo con i capelli sparati il dark dell'asilo ah questo affarettino qua ah cos'è il tizio del caricamento incerta con la musca 1.9 children in your 401k soft park elementary for safety non state boarding ah vabbè proviamo ad entrare dentro non si può entrare dentro ok vabbè praticamente siamo venuti qua dentro per nulla andiamo ah vabbè c'è un po' di gente qua fuori ci sono anche quelli stronzini soft park elementary ah ah vabbè facile allora i nemici infuriati oh che vuoi ma la scuola è fuori e nessuno mi sono sospesa non mi importa becca sta bastonata ah l'ho sfidato praticamente guarda che ho imparato ad utilizzare l'urro del drago puoi usare la tua magia per potenziare i tuoi attacchi con le armi mi metto il tasto v quando vedi la ecco quindi minchia mana 40 non ce l'ho neanche allora intiro una bella frecciatina nel culo qua con te che ha questo? cambiamico? ah no niente no ehm abilità vuoi posare questo per una volta bella questo è 90 punti yeah oh cazzo ehm mi sa che ora arriveranno i suoi pezzi ah oh porco zio mi scapperò con il zio questo lo dici tu vittoria ok quindi possiamo smantellare un po' di roba dammi la tua roba oh questo è di quest'altro si si troppo lungo da leggere non ce la faccio ma è troppo veloce si rompiamo un po' di spada rotta veramente era uno scopettone poi rompiti oh mio dio eeeh sparo ah ecco come si faceva eeeh è solo di la destra esatto qui che c'è? ah tutti i tofeucci i cazzo e mazzi vari io devo vedere come caspita si fa ah cioè io premo e no? e come cavolo faccio a cambiare? no io voglio cambiare boh vabbè me lo diranno più o meno oppure cercherò qualcosa si troppo si troppo rivolgiti verso il fuoco per lanciarli contro oh vedi che cosa me lo dicono te ne prendo G e rilascio mo G prima gli dici te ne prendo il tasto sinistro eeeh non sa niente eeeh buuia no allora no aspetta e raccogli qualcosa ma campagnola ah questo qui 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 vediamo basement deve essere la palestra che è chiusa datemi tutta la vostra roba spilla e messi di parte la pesca eeeh quello pozione dell'assoluto è pieno eh vabbè poi armadetti chiusi vabbè dopo andiamo a cosa eeeh qui non si deve entrare qua dentro però vede che c'è prima di qua ecco non si può stare lì senza eeeh queste chiusi beh anzi che non ti vedo che ti sei messo sti no aspetta aspetta volevo minchia testina di ulo eeeh fanculo eeeh ci potrà già un blocco note ha detto te un blocco note come come coso muorendo cane becca questo eeeh eeeh esamina abilità abilità diamogli questo eeeh fossa 74 punti voi è pericoloso usare le forbici devi usare quelle con la punta rotondata cazzato eeeh vabbè allora andiamo con questo bussa perchè ecco aspetta aspetta io ho perso un pochino la mano eh perchè ci ho giocato l'ultima volta non è che una settimana fa quindi va così boom mamma mia se mi rifascio e con te nada quindi nulla si fa una bastonata normale yeeeh boom bella poi dammi qui dammi tutto si ho capito ho capito ho capito ho capito bla 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 aspetta c'è la fontanella tutto qua fa la pisciatina e basta recupera la chiave d'ottone si meglio vediamo qui che c'è con tanti il protettore della città non ci arrivo vediamo qui il vetro si può rompere una scicca supera alcuni ostacoli se vi aiuto dei tuoi compagni il tuo coq finchè non è selezionato il comando amico il comando amico eh quindi eeeh 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 spiegati che dovresti fa eeeh 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 che è stato chiesto ti ha messo un messaggio eh ma mi rimane oh datemi qualche suggerimento grazie grazie salva mano questa trasmissione ti viene da oh fai qualcosa ce l'abbiamo fatta oh mio dio eeeh oh mio dio eeeh eeeh questa cosa mi tramatizzerà per tra vita eeeh tipo eeeh 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 caschetto, spilla... chissà se qui non ci vanno... no, ok tazita ok a volte osservando la situazione noterei degli schermi che ti permetteranno di... ecco muori, 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 muori tu puoi prendere i bracci dai miei piedi morti eeeh... eeeh... Kenny... eeeh... non è giusti utile fai qualcosa dai, fai la stessa amostra di prima no, 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 no ok, tu che la farvi il culo liscio, liscio, eh, 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 eh eh, 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 perfetto e' molto che fai con quello a fare no, l'hai detto te ah, dal culo ehm, si, la magia li la posso fare quando... quando grandina, quindi... e' qui lei e poi lui puoi pensi quanto li ho fatto e lo fin... che cazzo? oh mio dio, no davvero oh mio dio Ok, sai Mi sei praticamente Mi sei caduto in basso Di brutta maniera Però faccio questa Vabbè, facciamo fuori Sto pirletto Bus Oh, è già morto quello Miscio All'operata Poi vediamo A te Ti si rifà qui Scombo se Ti bruciano i capelli E beccati questa Ma la fa da solo Ti vanno un po' fuori È morto, ok Ho piano Ho matto Ecco, sono morto Oggetti Pozione Dov'è per cura Il tacco Ok, questo Vabbè Non sarà un tacco Ma È qualcosa Che ha a che vedere Con della roba da mangiare Bacio reale Canisciacca No Proviamo con questo Non so Oh mio dio Che cosa mi rappresenta Sta cosa Perché Hai ucciso Kenny Io basta Ok Lo so Muori Mi sa che Oh O te da dove appari Quindi Per curarsi Dov'è Pozione salute grande Eh no Mettiamoci una pozione piccola E E vorrei cambiare Il mio mino No Ok Dobbiamo giocare da soli Parada Ah Ah Che non muore Si rivede Eh Le abbiamo Questo qui Lo vedo parecchio Paricoloso Dai cani Sei potentus Pausa Pausa fan di zenzero No Liscio 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 E' morto Spava Ora tocca a te Dai Madafocca Pum Dai per uno No Che cosa hai fatto Piff E adesso Volevo chiudere No Volevo chiudere Con qualcosa di più figo Vabbè Mangia We're overrined We win The motherfuckers